C'è un cuore che batta, ma nessuno lo sente, però ti assicuro, un giallo rosso è per sempre. A due passi dal mare, la domenica sarà nel segno del legge che vincerà, c'è un cuore che batta, ma nessuno lo sente. Amici e tifosi giallorossi, il grande momento è arrivato, ne abbiamo parlato tantissimo. I nostri ragazzi giocheranno con la famosa maglia, eccola qui, la maglia in cui ci sono tutti i nominativi di tutti quanti voi che avete sottoscritto quest'anno US Lecce Program. E siccome ogni promessa è debito, ho accanto a me Roberto De Lemmi, che è il primo vincitore del primo contest US Lecce Program della storia del Lecce. Ciao Roberto, come stai? Ciao Presidente, bene, grazie. Bene, sei emozionato? Vabbè, abbastanza. A me non capita tutti i giorni di entrare dentro e spogliare la squadra del cuore. Il sogno di tutti i tifosi, se da bambino, è quello di indossare la maglia per la quali si viva e difenderla in un campo da calcio. Da quanto tempo vai allo stadio, Robby? Beh, mio padre mi portava già a un'età di 7-8 anni, quindi sono 35 anni. Adesso è il compito più difficile, devi cercare di trovare il tuo nome sulla maglia. Bene, ci proviamo. Ti aiuto, è vicino allo sponsor. Ti rendi conto che sabato Lecce è spalla fraggiato con questa maglia e i calciatori vedranno, oltre ai nomi di tutti i sottoscrittori, il tuo nome. Un abbraccio a tutti, ci vediamo sabato a Lecce e Spalto. Sei grande Lecce, il mio grande Lecce, forza Lecce devi vincere per noi. Ovunque tu sarai, con te saremo noi, nel bene e nel male, voi con noi. Sei grande Lecce.